La sicurezza e l'educazione stradale di chi va in motocicletta sono stati al centro di un incontro che si è svolto al circolo aziendale Ansaldo Breda di Pistoia. All'iniziativa, organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana in collaborazione con la Polizia Stradale, hanno preso parte anche i vigili urbani del Comune Capoluogo e il personale dell'area SAFE, Sicurezza Applicata Formazione Emergenza. Sotto la lente di ingrandimento la guida dei centauri nel rispetto delle regole, un tema più che mai attuale se si pensa all'aumento degli eventi tragici nel settore delle due ruote con l'arrivo dell'estate e a quanto accade in particolare sulla Porrettana, la strada più amata e anche più pericolosa dai motociclisti della nostra zona, troppo spesso emuli di Valentino Rossi. Le strade sono sempre più curate da un certo punto di vista, quindi si va più forte e più piene di buche per i problemi che sappiamo tutti di bilancio, quindi è sempre più pericoloso andare sulle strade. Le moto sono sempre più potenti e tanti ragazzi montano sulle motociclette senza sapere che arma letale perché si parla di questo anno a mano. Il problema è che una motocicletta del 2013 è una moto da gran premio di dieci anni fa, molto semplice. Solo un fatto di velocità che ovviamente c'entra, penso anche in grande percentuale, o c'è qualcos'altro? Nel caso in questione, quindi c'è i passi montani così, è solo un discorso di velocità perché su un moto che è paragonata a una macchina sono delle Ferrari, tocchi l'acceleratore se è a 120-130, ne dà un po' di più se è a 200, hanno trovato l'agente, la polizia stradale, la forestale addirittura, dentro il traforo a 210 all'ora. Due o tre accorgimenti se si possono dare velocemente per limitare questi guai grossi? Primo di tutto se si vuole usare la moto sportivamente bisogna farlo in pista perché le piste è vero che costano ma bisogna entrare nell'ottica che usare la strada come se fosse una pista è una questione, è un'aberrazione dal punto di vista proprio culturale. È immorale per un motociclista correre sulle strade di tutti i giorni, deve farlo se lo vuole fare in pista e deve soprattutto armarsi anche di un minimo di umiltà e di imparare che la motocicletta per essere controllata e gestita e evitare gli errori più marchiani e più gravi necessita di un minimo di abilità tecnica e di formazione culturale. Non è solo rispetto delle regole, probabilmente c'è anche una cultura da cambiare. E per questo siamo qui, la presenza nostra insieme alla Federazione Motociclistica Italiana è proprio quello, individuare quelle che sono le regole da rispettare per un rispetto della legalità in generale. Che consigli può dare la polizia? Il rispetto delle regole, prestare attenzione, rispettare in particolar modo la velocità.